Le fiamme gialle nella sede centrale di Banca Etruria ad Arezzo per acquisire documenti riguardo alle obbligazioni di vecchia Banca Etruria. La Guardia di Finanza è andata nella sede centrale di Via Calamandrei ad Arezzo, dove l'Istituto ha concentrato tutta la documentazione delle filiali riguardante la vecchia gestione. Tra i documenti acquisiti potrebbero esserci anche quelli riguardanti Luigino D'Angelo, il pensionato di Civitavecchia che il 28 novembre 2015 si uccise dopo aver capito di aver perso 100.000 euro tra obbligazioni ed azioni di Banca Etruria. Sul caso sta indagando la procura di Civitavecchia per truffa e istigazione al suicidio. In riferimento all'episodio è arrivata una nota da Nuova Banca Etruria. Nell'ambito delle notizie diffuse oggi dai media nazionali si legge Nuova Banca delle Etruria del Lazio SPA ha precisa che la presenza di ufficiali della Guardia di Finanza presso il centro direzionale dell'Istituto ha riguardato un'ordinaria attività di acquisizione documentale e non di perquisizione relativa a tutte le emissioni obbligazionarie subordinate emesse in precedenza da Banca Popolare delle Etruria del Lazio. Si tiene a precisare che le richieste hanno riguardato una generalità di informazioni relative a tutti i sottoscrittori non riferibili a singole posizioni. Grazie a tutti.